Buonasera, sono mister Bruno Tarantini, sono stato chiamato all'Avezzano Calcio ad allenare i gioanissimi. Per me è motivo di orgoglio e soprattutto di tanti stimoli. Ringrazio la società e le persone che hanno avuto fiducia in me e spero di ripagarli. Al termine e all'esito di questi tre giorni di incontro e di lavoro sono molto soddisfatto per la scelta. Ho trovato un ambiente di alto profilo di competenza, ma soprattutto mi ha colpito l'organizzazione della società, laddove per organizzazione io intendo un insieme di persone, di apparecchiature, di mezzi e soprattutto di compiti messi in sinergia per conseguire determinati obiettivi. Spero di ripagare la fiducia che mi ha accordata la società, anche perché io modestamente lo dico e lo sottolineo, ho allenato tanto come settore giovanile in precedenza, ma negli ultimi anni per ragioni di lavoro ovviamente sono stato fermo. Ho voluto ricominciare anche proprio io dalla categoria dei giovanissimi, perché ritengo che è una categoria molto importante, anzi la considero un punto di svolta calcisticamente parlando, perché si comincia a formare i giocatori che giocano a calcio, da bambini che giocano a pallone si passa a ragazzi che cominciano a giocare a calcio, quindi bisogna organizzarli da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di comportamento in campo, da un punto di vista di atteggiamento tattico. È motivo mio di forte stimolo questo e spero di fare bene. Ho visto che ci sono molti ragazzi, quindi questi giorni sono stati un'attrattiva importante per i giovani e spero di fare bene. Faccio un in bocca al lupo a tutti gli altri mister che ho conosciuto, alcuni dei quali già conoscevo, altri non li conoscevo e l'ho conosciuto. Ho visto in loro tanta disponibilità, tanta competenza e posso concludere che ho tratto una sensazione molto positiva e sono sicuro che faremo bene, anzi dobbiamo fare bene perché la società lo merita, la città lo merita. Faccio un in bocca al lupo a tutti, forza lupi, penso che si possa dire insomma.